stiamo prendendo lo squadro per la partenza di questo balconcino vedete e praticamente deve essere posato si cambia la piastrella ma deve essere posato allo stesso metodo di quello che c'è sotto a spacca pietra lo squadro va preso su una parete che è abbastanza a squadro abbiamo fatto qui vedete adesso mi allontano un attimo per far vedere da lontano abbiamo preso la linea con una riga di 3 metri e stiamo proseguendo per prendere lo squadro una volta fatta le prime due file abbiamo fatto un'imposta laggiù un'imposta che abbiamo fatto qua e un'altra che abbiamo fatto qua e comunque siamo in linea distanziatori da due millimetri ma questo è indifferente potete distanziarlo quanto vi pare però bisogna distanziarlo perché le mattonelle sono scalibrate con la posa non viene un lavoro perfetto quindi consigliabile sempre applicare il distanziatore questo è il metodo per per la partenza di un pavimento a colla sul pavimento adesso si tolgono queste mattonelle qua e facciamo vedere il proseguo come come andiamo